Siamo al campo di calcio del Camponino, con l'assessore Mauro Platè e l'assessore Andrea Virgilio, con i tecnici del comune e con i responsabili della società. Sta avvenendo l'intervento al campo di calcio per il rifacimento del campo sintetico, un intervento da 350.000 euro, l'intervento precedente fu 14 anni fa, è un intervento molto importante dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista educativo, di creazione, di costruzione, di coesione e di comunità. È un campo che serve tantissime squadre, bambini, giovani, è un campo che serve sicuramente al quartiere e che serve a tutta la città. Una bella opera che inaugureremo a settembre.